Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, la situazione a Ponte dell'Oglio è la seguente. Abbiamo deciso poco fa di chiudere il ponte sul Nure ed è stata disposta l'evacuazione di tutte le zone del territorio che sono appunto al ridosso del torrente per mettere la sicurezza alla popolazione in attesa che passi il picco che dovrebbe essere abbastanza lungo e in corso in questo momento. E c'è la chiusura del ponte al traffico, giusto? Monitoriamo la situazione. Chiaramente appena la condizione del Nure dovesse rientrare, sarà prontamente riaperto, quindi non chiuderemo un minuto di più del necessario per tutelare l'incolumità delle persone.